Siete pronti per un viaggio emozionante nel vostro destino? In un'atmosfera di gioia e meraviglia, ci immergeremo nel mondo delle stelle, dove astri e pianeti racconteranno la loro storia a noi. Accomodatevi e godetevi le previsioni precise e significative sulla vostra vita. L'oroscopo del segno ariete L'inizio di febbraio ha portato con sé un carico eccessivo di responsabilità che, ora, sta facendo sentire i suoi effetti. Lo stress accumulato si riflette nel vostro presente, con rallentamenti e ostacoli che non vi hanno concesso la serenità desiderata. Questo fine settimana, evitate di riaccendere vecchie dispute familiari, per evitare ulteriori complicazioni. Inizia la giornata con una prospettiva meno luminosa. Potreste esservi lasciati prendere la mano nel soddisfare ogni desiderio del partner, e ora potete percepire il rimorso per questa scelta. Prima che diventi un problema insormontabile, è essenziale rompere questa abitudine. Apritevi sinceramente con chi amate, esponendo le vostre preoccupazioni e cercando insieme una soluzione. Se siete single, potreste attraversare un momento di tensione. In una relazione, la comprensione e il dialogo saranno essenziali per superare divergenze e consolidare il legame affettivo. Le pressioni sul lavoro metteranno alla prova la vostra pazienza, cercate di contenervi e utilizzate la diplomazia come un asso nella manica. L'oroscopo del segno toro. Marzo si profila come un mese liberatorio per il toro. Dopo un lungo periodo di difensiva, è giunto il momento di esporre chiaramente le vostre ragioni. Entro la fine di marzo, molte questioni si chiariranno, soprattutto per quanto riguarda il vostro futuro. Nel mese di maggio, nuovi progetti si presenteranno, offrendovi opportunità per perseguire i vostri obiettivi. Questa giornata è caratterizzata da una valutazione negativa. Potreste avere valide ragioni per lamentarvi delle dinamiche nella vostra relazione di coppia. Allo stesso tempo, è fondamentale riflettere sul modo in cui state comunicando. Esporre chiaramente le vostre ragioni e cercare una soluzione al problema con il vostro partner potrebbe fare la differenza. Per i single, è il momento di prendere decisioni definitive, evitando di giocare su più fronti. Gestire le emozioni potrebbe essere un'impresa ardua, quindi valutate l'opportunità di coinvolgere figure esterne per ricevere aiuto sul lavoro e ampliare le vostre competenze senza stress eccessivo. L'oroscopo del segno gemelli. Le influenze positive di Venere e Marte vi aiuteranno a liberarvi da pesi che hanno afflitto il vostro cuore a lungo. Soprattutto per coloro che hanno iniziato recentemente una storia, questi momenti saranno caratterizzati da una passione intensa. Le relazioni più datate potrebbero giungere a una svolta. È il momento di affrontare le questioni irrisolte con il partner e valutare il futuro della relazione. Entro metà marzo, la situazione si chiarirà ulteriormente. L'oroscopo del 2 marzo promette un inizio di weekend favorevole. Le relazioni di coppia si consolidano, con alcuni di voi che progettano seriamente il futuro. Coltivare l'amore del partner è cruciale per costruire una felicità condivisa. Se siete single, potreste sperimentare momenti di gratitudine apprezzando la bellezza nelle piccole cose e nei gesti gentili degli altri. Sul fronte lavorativo, potete contare sul supporto di colleghi disponibili. Se operate in un settore creativo, la vostra immaginazione vi stimolerà, consentendovi di organizzare in modo ottimale il piano di lavoro. Dedizione e impegno saranno notati, portando apprezzamento dai superiori e aprendo nuove opportunità professionali. L'oroscopo del segno cancro Oggi si prospetta un'esperienza straordinaria, con un aspetto esteriore positivo e uno stato d'animo fantastico. Potrebbe sorprendervi il coinvolgimento spontaneo del vostro partner nelle faccende domestiche, mostrando un sostegno che arriva senza doverlo chiedere. Per chi è single, l'opportunità potrebbe presentarsi attraverso una conversazione intensa con un'amica, spingendovi a esplorare nuovi orizzonti e condividere progetti entusiasmanti. Sul fronte lavorativo, potrete mettere in campo la vostra intelligenza, dimostrando la capacità di mostrare grinta e determinazione quando necessario. Questa giornata offre l'opportunità di mettere in luce le vostre competenze, guadagnandovi apprezzamento dai colleghi o aprendo nuove opportunità professionali. Sfruttate al meglio questa dinamica per consolidare la vostra posizione e perseguire con successo gli obiettivi lavorativi. L'oroscopo prevede una maggiore chiarezza delle vostre idee entro la fine di marzo, permettendovi di identificare le aree che richiedono attenzione e quelle che potete lasciare andare. Risolvete le tensioni familiari con una discussione aperta e definitiva. A livello economico, superate i dubbi che frenano i vostri piani per un futuro più stabile. L'oroscopo del segno leone. Attualmente, l'amore e la famiglia potrebbero occupare uno spazio ridotto nella tua vita, poiché gli impegni quotidiani e il lavoro ti tengono occupato. Questo fine settimana, sarebbe opportuno ridurre le tensioni e evitare discussioni inutili in famiglia. La giornata inizierà con alcune perplessità, ma nella seconda parte ritroverai la serenità per essere in armonia con te stesso e gli altri. Il futuro si presenta con conversazioni di estrema importanza, toccando argomenti come convivenze, matrimoni, figli e l'acquisto di una casa, tutto grazie a una riscoperta e intensa intesa di coppia. La relazione sta assumendo una prospettiva più seria e orientata al futuro. Per coloro che sono single, potrebbe aprirsi una situazione inaspettata, magari vivendo un momento speciale con qualcuno che susciterà emozioni profonde. Le stelle renderanno la giornata un caledoscopio di sensazioni, avvolgendovi in un calore delicato, portando gioia e felicità. Sul fronte lavorativo, potrebbe essere una giornata intensa con nuove attività finanziarie da affrontare. L'oroscopo del segno vergine In questo fine settimana, potresti sentire il desiderio di rimanere un po' in più in solitudine, specialmente se non tolleri critiche o dubbi degli altri su di te. Forse è il momento di chiarire definitivamente le questioni in amore e nel lavoro, soprattutto con coloro che mettono in discussione le tue capacità. Evita di alimentare tensioni che possono solo influire negativamente sul tuo umore. L'oroscopo di oggi, 2 marzo, prevede una giornata decisamente positiva, caratterizzata da un'elevata iniziativa. Uno spirito benefico avrà un impatto positivo sull'umore, agevolando e distendendo i rapporti con il partner. Per i single, potrebbe essere una giornata ricca di momenti di condivisione con gli amici più cari. Forse vi troverete coinvolti in una conversazione profonda che aprirà nuove prospettive, aiutandovi a comprendere meglio voi stessi e il mondo circostante. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra capacità di interagire con i colleghi potrebbe portare a risultati discretamente buoni. Mantenete questa positività e cercate di sfruttare la determinazione nelle prossime azioni. L'oroscopo del segno bilancia. Molti di voi stanno riflettendo sul fatto di aver dato molto senza ricevere abbastanza in cambio. Ora è il momento di essere meno permessivi, di prendere il controllo della propria vita e di non tollerare ulteriori mancanze di rispetto. Se qualcuno ha sottovalutato le tue qualità, non esitare a difendere il tuo valore. Anche se c'è ancora un po' di tensione, cerca di dedicare il weekend a un hobby rilassante. Un sabato davvero positivo si prospetta per molti di voi, preparateli a gioire come non mai. Probabilmente arriveranno buone notizie, soprattutto per coloro in attesa di risposte in vari ambiti. State attenti a eventuali notizie vaganti, spesso portatrici di improbabili verità. In amore, ora che avete qualcuno che vi capisce, non lasciatevelo sfuggire. Siate pronti a soddisfare ogni suo desiderio con affetto e disponibilità. Per i single, l'amore con la A e maiuscola potrebbe risvegliarsi presto, quindi preparatevi a incontrare nuove persone. Le previsioni del giorno vi invitano a mettervi in azione, sia in amore che nel lavoro, dove le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole. L'oroscopo del segno scorpione. Luna e Mercurio sono favorevoli, consentendoti di progredire positivamente nel lavoro. Tuttavia, ci potrebbero essere ancora tensioni in amore a causa di malintesi. Evita di rispondere in modo aggressivo a chi cerca solo di provocarti. Mostra la tua saggezza e maturità, evitando polemiche inutili. Approfitta del fine settimana per dedicarti a un hobby che ti rilassi. Per i nativi dello scorpione, l'astrologia ha riservato 5 stelle della buona fortuna. La giornata inizierà con il piede giusto, promettendo rilanci emesse a punto con alte probabilità di successo. Rispondete con una carica d'energia positiva. Per quanto riguarda l'amore, con il partner si profila una giornata più che buona, a patto di districarvi da alcune situazioni che tengono sotto scacco la vostra anima. Le stelle suggeriscono di dedicare la maggior parte del tempo a soddisfare le vostre attese. Per i single, sfruttate al massimo il presente per cogliere ogni attimo di piacere che la giornata vi offrirà, senza preoccuparvi del futuro. In generale, è un ottimo giorno per le vostre aspettative sentimentali. Nel lavoro, gli affari e gli investimenti sembrano andare abbastanza bene inaspettatamente. Preparatevi a cogliere le opportunità che si presenteranno. L'oroscopo del segno sagittario. L'energia lunare si avvicina al vostro segno, portando con sé la promessa di giorni pieni di amore e sorrisi. Questa giornata, che coincide con il sesto giorno della settimana, si prospetta come un momento straordinario, soprattutto per quanto riguarda le relazioni affettive. La generosa luna arriva nel vostro segno, portando con sé fortuna e positività, rendendo la giornata estremamente piacevole. Siete pronti ad affrontare nuove responsabilità con il vostro partner e a pianificare impegni a lungo termine. Se siete single, la giornata si presenta ricca di soddisfazioni, con ogni vostra aspettativa pronta a essere gratificata. Sentirete il desiderio di immergervi nella socialità e di scoprire nuovi interessi che aggiungeranno un tocco di piacere inaspettato alla vostra vita. Sul fronte lavorativo, è il momento ideale per stringere nuove collaborazioni professionali, facilitate dalle influenze planetarie. Coltivate queste nuove opportunità e integratele nella vostra routine quotidiana. L'oroscopo del segno capricorno Attualmente, la scelta più saggia è concedersi un momento di riflessione per delineare la direzione desiderata e le persone con cui volete condividere il cammino. Nel caso di una recente separazione, potrebbe essere il momento di considerare un ritorno sui propri passi. A volte, è cruciale lasciar da parte l'orgoglio e riconoscere eventuali errori. Se vi trovate a dover prendere decisioni sentimentali, è il momento di valutare con attenzione pro e contro, evitando scelte dettate unicamente dall'istinto. Preparatevi per una routine serena e tranquilla in arrivo. Questa fase della settimana si presenta piuttosto ordinaria, senza picchi di positività, ma orientata verso la normalità. In generale, vi avvicinate a un periodo incentrato sulla ricerca della tranquillità, soprattutto nelle relazioni affettive. In amore, potrete godere di momenti piacevoli con il vostro partner, il quale sarà predisposto a colpire le corde giuste per farvi sentire bene. Se siete single, attorno a voi ci saranno persone da conoscere, e superando timori e diffidenze, potreste fare incontri interessanti. Sul fronte lavorativo, si intravedono segnali positivi, siete abili nel cogliere opportunità e nuove strade, con prospettive di guadagno nel breve termine. L'oroscopo del segno acquario. L'entrata di venere nel vostro segno vi spingerà ad accettare sfide stimolanti, mettendo alla prova le vostre abilità. Non mancano progetti all'orizzonte che, da una parte, vi entusiasmano, ma dall'altra suscitano timori. È essenziale valutare attentamente ogni situazione, bilanciando il desiderio di stimoli con la necessità di mantenere l'armonia interiore e di non sovraccaricarvi di impegni. Accogliere sfide impossibili può essere un grande stimolo, purché non diventi una fonte di oppressione. L'inizio del weekend si avvicina con una sensazione di normalità. In generale, questo periodo si prospetta abbastanza favorevole, con pochi aspetti negativi e molte opportunità positive. Avete il desiderio di qualcosa di diverso, ma forse non riuscite a definire con precisione cosa. Tranquilli, i vostri obiettivi sono a portata di mano. Nel campo sentimentale, gli astri amichevoli vi forniranno la forza d'animo e il coraggio necessari per affrontare la giornata con successo. Approfittatene per trascorrere momenti speciali con il vostro partner. Se siete single, sarete affascinanti e simpatici, favorendo incontri interessanti se riuscirete a superare timidezze. Sul fronte lavorativo, se avete un'idea da far valere, utilizzate la vostra diplomazia per portarla avanti senza paura di eventuali errori. L'oroscopo del segno pesci. Secondo l'oroscopo del giorno, potrebbero sorgere tensioni, soprattutto con Vergine, Leone e Ariete, nel corso del prossimo weekend. In ambito amoroso, potrebbero manifestarsi polemiche e conflitti. È consigliabile evitare di coinvolgersi in un circolo di reciproche recriminazioni, preservando così questi giorni dedicati al riposo e alla famiglia. A partire da venerdì 11 marzo, l'ingresso di Venere nel vostro segno offrirà l'opportunità di risolvere questioni irrisolte, specialmente legate alla sfera familiare e amorosa. L'oroscopo odierno prevede un periodo di stasi in diversi settori. In situazioni di stress o tensioni, fate attenzione a come reagirete in questo periodo. In amore, potrebbero esserci difficoltà, con relazioni più facili con le persone intorno a voi rispetto alla persona amata. Se il vostro cuore è interessato a qualcun altro, potrebbe essere il momento di riflettere sulla vostra situazione sentimentale attuale. Se siete single, evitate di programmare a lungo termine e lasciate spazio per le sorprese di questo fine settimana. Sul fronte lavorativo, se avete lasciato qualcosa in sospeso, è il momento di rimediare e completare le attività lasciate in sospeso nei giorni scorsi.